Sì, il campionato come hai detto che venivamo da due sconfitte, abbiamo preparato sin da subito questa partita e anche quella con Enna e abbiamo risparmiato qualche forza appunto con i cingoli perché basta fare due vittorie in un giro da quattro e almeno sei secondo e dato che poi vincendo con Enna la semifinale della partita se noi ci proviamo e ce la metteremo tu Oggi è stata una partita dove abbiamo giocato i nuovi che non hanno giocato ieri quindi c'è stato qualche tiro sbagliato, qualche scottatura in più proprio per i primi minuti giocati infatti si è creato un po' di meno rispetto a quanto potevamo fare, potevamo fare qualche gol in più però siamo soddisfatti, tutti sono stati pronti e domani si riguarda Innanzitutto conosciamo Camerano e la mia squadra, abbiamo portato due volte il campionato, entrambi le volte sono state due battaglie quindi sapevamo a cosa andavamo incontro, all'inizio siamo entrati in campo bene, poi ci siamo un po' persi non siamo riusciti a scrivere il nostro miglior gioco, ci abbiamo provato fino all'ultimo ma molte cose oggi non sono andate insomma complimenti a loro che chiaramente ci hanno fatto giocare male e speriamo domani dare tutto per tutti a giocare meglio grazie